Un caro saluto, un caro saluto parresiastico, inconciliato e indomito da Diego Fusaro, un caro saluto agli amici e alle amiche, ai nemici e alle nemiche che si collegano con noi per la nostra diretta quotidiana. La nostra diretta quotidiana si chiama il parresiasta ed è un tentativo di pensare altrimenti, controvento, nel pelago procelloso della globalizzazione turbo-capitalistica, come facevano i parresiasti dell'antica Grecia, il parresiasta essendo colui che sbotta la verità in faccia al potere senza curarsi degli asimmetrici rapporti di forza. Ed è quello che proviamo a fare anche noi nel nostro piccolo, potete seguire il parresiasta tutti i giorni sui nostri canali social, per sapere su quali canali social siamo collegatevi a www.filosofico.net che è il nostro sito con la sezione di filosofia, il blog, i contatti, come sostenerci, i social e molto altro ancora, filosofico.net. Grazie a chi lo visita, vi segnalo anche che è uscito il mio nuovo libro, eccolo qua, La dittatura del sapore, larve, insetti, grilli contro il gastronomicamente corretto, edito da Rizzoli, un libro contro le nuove mode gastronomicamente corrette che vorrebbero farci mangiare le larve e i grilli in sostituzione delle nostre prelibatezze identitarie di cui l'Italia è uno scrigno meraviglioso. Come mai nell'agenda della classe dominante turbo-capitalistica vi è questa tendenza? Per due ragioni che ho provato a esaminare nel mio libro La dittatura del sapore. in primo luogo perché la classe capitalistica transnazionale mira a sradicare le identità per imporre la figura dell'uomo post-identitario infinitamente manipolabile e la tavola è un luogo magnifico di creazione, di custodia delle identità e poi perché si tratterà di dare da mangiare alle nuove masse riplebeizzate e quindi larve, insetti e grilli saranno utilizzati in quel senso. Tra l'altro vi segnalo se siete interessati che dal 25 novembre parte il mio corso online in quattro lezioni proprio sulla dittatura del sapore in cui mi confronterò insieme a voi sui temi del libro. Dal 25 novembre per saperne di più e per iscriversi basta andare su filosofico.net in basso c'è la locandina con i dettagli e le modalità di iscrizione. Il costo dell'intero corso è di appena 50 euro quindi è come se regalato, anzi può essere un bel regalo da fare ad amici e a nemici. Bene, le novità da commentare sono molteplici anche oggi e non possiamo non aprire la nostra rassegna di ontologia dell'attualità se non dall'Iran. L'Iran scatenato, l'Iran furente, l'Iran incontenibile, dell'Iran verrebbe da dire con un giuoco di parole. L'Iran come sapete nella giornata di ieri ha fatto cadere una pioggia di missili su Israele, si parla di più di 200 missili e come se non bastasse Teheran ha fatto sapere di essere pronta a ridurre Tel Aviv in cenere, Sikh. Questa l'espressione molto dura obiettivamente utilizzata dall'Iran contro Israele. E adesso Savasandir, tutti gli araldi, gli armigeri e i sacerdoti del pensiero unico politicamente corretto puntano il dito contro l'Iran chiamandolo Stato canaglia, chiamandolo Stato terrorista, Stato ribelle, Stato che deve essere rieducato ovvero americanizzato. E però nessuno dice nulla sul contegno d'Israele, perché vorrei ricordare a tutti che bisogna raccontarla tutta la storia, non a sprazzi e a singoli passaggi, perché se l'Iran ha agito in questo modo, e noi siamo del tutto d'accordo sul fatto che sarebbe preferibile un mondo in cui non ci fossero i bombardamenti e i missili, questo è il discorso dell'anima bella di Egeliana Memoria, e però non dimentichiamo che l'Iran con questa aggressione a documento di Israele ha risposto di patto a una preventiva aggressione che ha subito da Israele. Non dimentichiamo che qualche settimana fa Israele ha compiuto un terribile raid criminale contro l'Iran, cioè contro uno Stato sovrano indipendente, nel silenzio cinico e irresponsabile della cosiddetta comunità internazionale, che è poi un altro nome ipocrita dell'Occidente, anzi dell'Uccidente liberal-atlantista, che continua ad appoggiare Israele. D'altro canto, come sapete, a Israele è consentito tutto e di tutto, come se appunto avesse l'impunità permanente. Si dice sempre che per quello che ha subito Israele adesso è di fatto giustificata fare tutto. E no, non è così, perdonatemi. Noi siamo massimamente solidali con il popolo ebraico per quello che ha subito di tremento, tragico, inaccettabile nel Novecento, è assolutamente qualcosa di terribile quello che ha subito il popolo ebraico nel Novecento, ma questo non può autorizzare oggi Israele e Netanyahu a praticare politiche criminali e assassine. Le due cose sono distinte, quindi sì alla condanna totale delle orrende tragedie avvenute nel Novecento, no alla giustificazione delle politiche criminali di Netanyahu. Questo deve essere chiaro, no? Lo dico perché va di moda liquidare come antisemitismo la critica di Israele. E no, perdonatemi, io sono contro l'antisemitismo, ma sono anche contro le politiche criminali di Netanyahu e non c'è alcuna correlazione tra l'essere contro le politiche di Netanyahu l'essere antisemiti. Assolutamente, si può essere contro l'antisemitismo, e io sono contro l'antisemitismo, e poi anche contro le politiche criminali di Netanyahu, voglio dire. E questo è un punto su cui insisto sempre. Bene, adesso l'Iran risponde, l'Iran replica duramente, fa sapere che non è disponibile a subire tutto e di tutto da parte di Israele. Vedremo quali saranno gli sviluppi. Mi piacerebbe molto che si arrivasse presto alla pace, all'equilibrio, alla pratica dei due popoli e dei due stati, come si dice da tempo, ma vedo che le cose stanno lievemente degenerando purtroppo nell'area e quindi penso che difficilmente si risolverà in tempi rapidi la situazione ai noi. Tra l'altro leggevo su contropiano.org, che è una rivista disallineata dell'area anticapitalista, che la sola Ungheria di Orban ha scelto di sedersi al tavolo con la Cina. La Cina continua a proporre piani di pace per l'Ucraina, ma non viene ascoltata. Verba ventis. L'Occidente, anzi l'Occidente non vuole saperne evidentemente dei piani di pace della Cina. Come non mi stanco di dire, la Cina di Xi Jinping è probabilmente lo stato più saggio e più lungimirante in questo momento storico, sta facendo di tutto per produrre la pace e l'Ungheria soltanto dei paesi europei ha scelto di sedersi al tavolo con la Cina. Ci dicono che l'Ungheria è un paese di incivili, rozzo, violento, ma mi sembra in questo caso l'unico paese civile d'Europa, bisognerà pur riconoscerlo. Tra l'altro Rutte, segretario della Nato, recentemente eletto, un nome e una garanzia, ma del resto c'era prima Stoltenberg, un altro nome, un'altra garanzia. Nomina suntomina, dicevano i latini. Rutte ha detto che Kiev è autorizzata a colpire il territorio russo con le armi occidentali. Vedete bene quale follia sta dilagando in Occidente. C'è del marcio in Occidente, direbbe l'amico di Freddi che ha scritto un bel libro C'è del marcio in Occidente, parafrasando il principe di Danimarca, anzi di Danimarcia mi verrebbe da dire con una battuta, il principe Amleto, naturalmente, di Shakespeareana memoria. E quindi vedete bene che la situazione sta degenerando anche in Europa, un'Europa guidata da pazzi, da tecnocrati, da euroinomani senza pietà e una Nato che sempre più sta rivelando quello che già sapevamo, cioè che questa non è la guerra della Russia contro l'Ucraina, essendo invece la guerra dell'Occidente, anzi dell'Uccidente e della Nato contro la Russia, rea di non genuflettersi al nuovo ordine mondiale, liberal atlantista. Ci sono anche altre novità interessanti, poiché Bergoglio ha detto una cosa incomiabile, almeno in parte questa volta. Come sapete non sono certo tenero verso Bergoglio, critico spesso la sua teologia del nulla, la sua religione bustochiana, post-cristiana, smart e liquida. Ho anche scritto un libro in cui mi occupo di questo, La fine del cristianesimo, edito da PM e però quando ha ragione bisogna pur dargliela. Bergoglio mi sembra sempre simile a un orologio fermo che per accidents segna due volte al giorno l'ora esatta. In questo caso cosa ha detto Bergoglio? Ha detto che la difesa di Israele è spropositata, è sproporzionata, anzi ho usato questo termine, sproporzionata. Ecco, l'ha ancora detta in maniera molto perifrastica ed edulcorante, però il concetto è condivisibile. In realtà bisognerebbe precisare il discorso di Bergoglio e dire che questa non è nemmeno difesa di Israele, questo è attacco di Israele contro il Libano, contro Gaza, anche contro l'Iran nelle settimane scorse. Perché Israele continua a dire che sta esercitando il suo legittimo diritto di difendersi, ma in realtà sta aggredendo stati sovrani. Di quale difesa andiamo cianciando? Domando. Del resto dice Israele di combattere contro il terrorismo e poi produce montagne di cadaveri di donne, anziani e bambini. Cioè agisce in maniera terroristica dicendo che combatte contro il terrorismo. E però Bergoglio questa volta ha perfettamente ragione, anche se lo dice in maniera un po' arzigogolata e un po' leggera, non in maniera troppo radicale, ma è già qualcosa, credetemi, in questi tempi di confusione e di propaganda organizzata millimetricamente. Poi c'è un'altra notizia interessante che voglio commentare insieme a voi, anche un po' per sdrammatizzare, perché altrimenti davvero regna un clima opprimente. A volte anche i fact checkers piangono, potrebbe essere il titolo di una pellicola. Cos'è accaduto? È accaduto che Enrico Mentana, uno dei giornalisti di punta dell'ordine simbolico dominante, uno dei massimi esponenti del pensiero unico liberale atlantista. Mentana è quello che celebra sempre Washington come la più grande democrazia del mondo, e già questo basta inquadrare il pensiero unico di cui è intriso l'operato di Mentana. Mentana è stato censurato su Instagram, proprio così. Lo dice lui stesso sulla sua pagina Instagram, è stato censurato per un post in cui sostanzialmente prendeva le difese di Liliana Segre, che come sapete è stata attaccata duramente in un corteo, è stata esposta la sua foto con delle frasi anche piuttosto dure. Mentana la difesa, però Instagram ha rimosso il suo post perché, spiega Mentana, violava secondo Instagram le norme della community, quindi anche Mentana subisce la censura. Tra l'altro notate che un tempo a censurare erano gli stati o la chiesa, adesso sono i privati direttamente, stiamo assistendo alla privatizzazione della censura, sono Zuckerberg e TikTok, i colossi apolidi del capitale a praticare la censura, e però anche Mentana è stato censurato. Quindi chi ferisce di censura perisce, si potrebbe dire, dato che Open ha collaborato, salvo errore, con i fact checkers di Facebook. Vedete, la differenza tra Mentana e noi è che probabilmente, secondo Mentana, è giusta la censura contro di noi, dico probabilmente, poi non lo so, mentre noi invece siamo contro ogni forma di censura. Noi siamo a favore di un mondo in cui anche Mentana possa dire liberamente la sua, possa esprimere il pensiero unico che egli esprime. Noi siamo per la totale libertà di espressione. Forse Mentana e i fact checkers non sono propriamente di questo avviso, forse lancio un'ipotesi, poi magari mi sbaglio, però questo è che volevo dire. In ogni caso vedete che il mondo della censura algoritmica produce anche questi effetti. Già che ci sono, vi ricordo anche i prossimi appuntamenti in presenza. Ci vediamo il 6 di ottobre in provincia di Macerata per la presentazione del mio nuovo libro, La dittatura del sapore contro il gastronomicamente corretto, edito da Rizzoli. Poi ci vediamo ancora il 10 di ottobre a Orsago, provincia di Treviso, per la presentazione del mio libro, La dittatura del sapore. Poi ci vediamo il 12 ottobre a Luserna San Giovanni, provincia di Torino, per una discussione sul pensiero critico e una bella serata conviviale. Il 13 di ottobre ci vediamo a Catanzaro, nelle Calabrie, per discutere di pensiero critico e libertà di informazione. Poi ci vediamo ancora il 17 ottobre in provincia di Pavia, per la presentazione del mio libro, La fine del cristianesimo. Vi aspetto amici lombardi. Poi ci vediamo ancora in tanti altri posti, il 18 ottobre a Nardò, provincia di Lecce, per una discussione sul pensiero critico, il 19 ottobre a Rimini e il 20 di ottobre a Bologna, con Andrea Cionci e con Alessandro Minutella, per parlare della fine del cristianesimo. Poi tanti altri eventi ci saranno ancora. Se volete saperne di più o se volete voi stessi organizzare un evento, basta scrivermi. Andate su www.filosofico.net, cliccate su contatti e mi scrivete un'email. Filosofico.net alla voce contatti, mi scrivete un'email. Potete invitarmi a presentare il mio nuovo libro, La dittatura del sapore, o un libro precedente di quelli che ho scritto. Potete organizzare una conferenza, un dibattito, una conversazione pubblica o privata, con pochi o con molti. Potete organizzare una cena simposiale platonica, quello che volete. Io rispondo con favore ai vostri inviti. Ci vediamo il 24 ottobre a Genova, anche dimenticavo per la presentazione del libro La dittatura del sapore, quindi anche a Genova saremo, dove si mangia benissimo, tra l'altro un'ottima cucina, quella ligure come tutte le altre d'Italia, del resto. Grazie anche a chi ci supporta, liberi di sapere e di far sapere il nostro motto. Se ritenete utile ciò che facciamo con il nostro pugnace e parresiastico gruppo di lavoro, allora supportateci. Basta fare donazioni andando su filosofico.net e potete fare donazioni con Paypal, con PostePay o con Bonifico. Supportate il nostro progetto se vi piace quello che facciamo, supportate il nostro gruppo di lavoro, potete supportarci anche abbonandovi ora alla nostra pagina Instagram, al nostro canale YouTube o alla nostra pagina Facebook. Al costo di un caffè al mese ci supportate, avete dei contenuti riservati agli abbonati. Grazie a chi ci sostiene, liberi di sapere e di far sapere. Grazie a tutti e grazie ancora a chi legge la dittatura del sapore o a chi si iscrive al corso che farò sulla dittatura del sapore online. Per saperne di più andate su filosofico.net in basso c'è la locandina con i dettagli e le modalità di iscrizione. Grazie di cuore a tutti, un caro saluto parresiastico, indomito e inconciliato da Diego Fusaro.